Sono io, non temete signora, sono Cichita, non vi ricordate? Tu, ma come mai sei qui? Perché siete uscita dalla camera? Venivo io da voi, vi ho vista portare qui e ho preparato qualcosa che forse vi potrà servire, guardate! Questa dà all'istante un sonno profondo senza far male e quest'altro dà un altro sonno ma senza risveglio! Su, prendete, nasconditelo, io troverò i vostri compagni e li avvertirò, andate! Grazie caro, ma fa presto, ti prego, fa presto! Sì, sì, andate!